Dal 12 al 28 giugno, oltre 53 di Paralimpici si cimenteranno in un viaggio a tappe attraverso l'Italia per lanciare un messaggio di rinascita con lo sport, un'immagine del nostro paese che riparte, resiste e lotta per costruire un futuro nuovo da Luino all'Euca, oltre 3000 km da percorrere con handbike, biciclette o carrozzine olimpiche consci tutti quanti gli atleti in campo del valore simbolico che questo viaggio potrà avere per le altre persone il 19 giugno, riuniti i testimoni e idealmente i tre colori e la bandiera la staffetta ripartirà e arriverà fino al Tacco d'Italia, Santa Maria di Leuca dove domenica 28 giugno l'ultimo atleta isterà al cielo la bandiera simbolo della manifestazione in totale verranno percorsi 3000 km da 52 sportivi paralimpici che si alterneranno per le 43 tappe che toccheranno 14 regioni d'Italia compresa la Sardegna dove un atleta imbarcherà il proprio testimone per farlo raccogliere poi a Civitavecchia tra eventi e incontri speciali il viaggio sarà una festa itinerante che punterà a coinvolgere chiunque abbia a cuore il progetto da ciclisti che vorranno accompagnare lungo il percorso gli atleti e tutti gli enti, le amministrazioni e le comunità pronte ad accogliere e celebrare i protagonisti quindi a questo punto l'invito è quello di farsi trovare pronti al capo di Leuca per rivolgere un doveroso applauso a questi straordinari atleti sia in campo sportivo ma anche nella vita sta per partire la grande staffetta, il progetto Obiettivo Tricolore un'iniziativa dei nostri ragazzi di Obiettivo 3 di scendere lungo il nostro bellissimo paese partendo dal nord Italia, ritrovarsi a Firenze, i tre percorsi appunto che generano l'inizio di questa grande sfida e poi proseguire fino a Santa Maria di Leuca sarà una festa bellissima, ci dovete seguire perché avremo tante cose meravigliose da raccontare